Siamo a un seminario OSAS Salute e Sicurezza Stradale, la seconda giornata di questo convegno in compagnia della senatrice Maria Rizzotti, vicepresidente della Commissione Sanità della Camera, si parla di sicurezza stradale, prevenzione, le chiediamo ovviamente l'attività su questo tema della Commissione di cui è vicepresidente, in questi ultimi tempi soprattutto per quanto riguarda si parla anche di alcune nuove normative che verranno e anche limitative in qualche modo? Infatti tutto nasce dalla direttiva europea del 2014 dove si vieta rilascio e rinnovo della patente ai soggetti affetti da OSAS, cioè sindrome dell'apnea ostruttiva notturna. Nel maggio del 2016 la conferenza Stato-Regioni con il Ministero della Salute ha recepito appunto questa direttiva delineando linee guida per il trattamento di questa patologia. Purtroppo queste linee guida presentano abbastanza alcune criticità per cui sono più di difficile applicazione. Ora questo tema è un tema molto importante che riguarda la salute e la sicurezza di tutti i cittadini, non soltanto dei soggetti che purtroppo sono affetti da questa patologia. È un tema che deve essere approcciato con un rigore assolutamente scientifico e unitamente a tutti gli attori coinvolti. Quindi è assolutamente importante che ci sia una diagnosi precoce, un poter indirizzare poi i soggetti a rischio a unità specifiche per valutare il grado di importanza di questa patologia, se sono insufficienze periferiche o se sono invece insufficienze centrali a livello bulbare. E io credo che noi abbiamo il dovere e anche il diritto con le nostre esperienze, con le nostre professionalità, con le nostre direi eccellenze in campo italiano, poterci occupare di questo tema per affrontare il cuore del problema. Non basta, è inutile togliere la patente a qualcuno oppure sottovalutare. si deve assolutamente centrare il problema e noi abbiamo le professionalità giuste per poter fare questo. Non dimentichiamo che l'Europa molto spesso ci ha regalato brutte esperienze in cui noi invece potremmo insegnare, come ad esempio nel campo della sicurezza alimentare, sono arrivate in Italia mosserelle blu, ovala diossina e quant'altro, o anche in altri tipi di soggetti come il trattamento del diabete. Insomma, noi vogliamo imparare ma anche dire la nostra proprio con le competenze che abbiamo. Mi scuserebbe interrompo, sì, penso che lei accennasse anche all'importanza ovviamente della prevenzione. Ovviamente, però quello che volevo chiedere, a parte che questo provvedimento c'è il rischio, penso che un pochino le adombrasse anche questo, che abbia una portata discriminatoria nei confronti di chi è malato, che più diciamo che venire incontro alla cura, insomma, si limita la possibilità anche di spostamenti di certe persone. E poi le volevo chiedere se rispetto alla sicurezza stradale si trascura tutto quanto un ampio, vasto ambito che è quello della sicurezza delle strade, della segnaletica. Ecco, è proprio recente una, credo, già delibera, ma comunque è un provvedimento che o è già stato preso o si prenderà a Roma, per cui su tutta una serie di strade molto sconnesse, anziché ripararle, si cala in il limite di velocità a 30 km di orari. Ecco, mi sembra un po' una cosa ipocrita. Ma infatti, come le dicevo, l'approccio dell'Unione Europea a questo problema è soltanto sulla cosa finale. Noi invece dobbiamo arrivare al cuore del problema, che significa prevenzione. Come si fa la prevenzione? Con l'informazione e con una diagnosi precoce. Se noi penalizziamo i soggetti, come appunto togliere la patente o non rinnovarla, sarà molto difficile che ci sia un approccio spontaneo alla diagnosi, oltre al fatto che dobbiamo pensare alla formazione specifica dei medici di base e da lì in poi perché possano essere indirizzati. Quindi dare semplicemente la sanzione non risolve assolutamente esattamente come dire vai ai 30 all'ora con delle buche perché non è questo il modo di risolvere il problema per la sicurezza non solo della persona, non solo del cittadino, ma la sicurezza stradale che coinvolge tutti. Non dimentichiamo comunque che proprio a causa ad esempio dell'Osas, come peraltro per tutti gli incidenti anche mortali purtroppo della sicurezza stradale a proposito delle buche nelle città sempre più frequenti e purtroppo non curate e risolte. C'è uno spreco di danaro pubblico, parlo ad esempio del sistema sanitario nazionale perché si curano le conseguenze senza arrivare a quello che è la prevenzione che farebbe risparmiare molti soldi, ma anche a livello di cause civili, di assicurazioni, è una cosa a 360 gradi e così si possono affrontare i problemi. potendo consultare tutti gli operatori per poter arrivare a una cosa reale, utile per i cittadini. Ringraziamo la senatrice Maria Rizzotto, vicepresidente della Commissione Sanità di cui personalmente affido il mio diritto allo spostamento. Grazie. Grazie a tutti.